Mandi a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati dal vostro Ava come Lava Allora andiamo avanti con le missioni come sempre Siamo qua al pontile Yilong E possiamo vedere che possiamo accettare la missione in questo punto Quindi andiamo lì e l'accettiamo Eccoci qua, Monte Lingmeng e andiamo Raggiungiamo il tipo Punto di osservazione Wow che bello Mi piace il tempio con il ruscellino Allora adesso dobbiamo completare la challenge Semplicemente bisogna saltare no? Qua rampicarci Utilizzate il teleport Così ci giriamo e siamo già pronti con la prova successiva Devi abbattere tutti i manichini vestiti di rosso Se colpisci nel manichino vestiti di blu hai perso Impossibile perdere Dobbiamo andare lì dove c'è la porta Apri porta Oh che carino Bello il posto Adesso dobbiamo accompagnare Hwang Ma come cammina? Che velocità! Mai visto un NPC camminare così veloce E ora Parliamo Con lui E possiamo fare tipo Esamina Ma non è molto importante Facciamo Esamina Esamina E facciamo offri Una mela Oh! Un scogliattolo Viene a mangiare la mela Ok Torniamo indietro Parliamo Dobbiamo grigliare la La carne Aggiungi un pizzico di sale Due pizzichi Due, tre Aumentiamo Eeeh Madonna Mangi questa carne Muori tipo Quattro Specialità La Paimon Oh mio Dio Che colore ha quella carne Non la mangerei neanche sotto tortura Mmm Beccati questa specialità Mmm Guarda che buona Ma perché c'è della pietra? Ah perché ha messo la pietra? Oddio Sto vomitando Oddio Poveretto Tipo l'ha avvelenato Criminale Completata la missione Una passeggiata tra i ricordi E c'è una nuova missione Andiamo subito in bomba Andiamo qua Facciamo apri E voilà La cesta Prendetela se volete Ma io la prendo Ok Andiamo Qua Seguiamo la luce Acqua Quindi siamo a Lio Quindi mi raccomando Non possiamo andare sotto E adesso Andiamo qua dove c'è l'altare Facciamo attiva Non si muovono di un millimetro Andiamo qua dove c'è il ragnetto Molto bene Cassa E facciamo qua appunto i tag del clan guo E qua a un certo punto ci dice Osserva con gli occhi Quindi vista elementale E combina il pergamene di conoscenza Di ogni dove Con un scaffale di ogni angolo Ok quindi In parole povere E' un puzzle Quindi ritorniamo indietro Facciamo Ah no Ok Non serve per più di nuovo attiva Quindi facciamo Usiamo la vista elementale E mettiamo a posto Le pergamene del colore Nell'esatto ordine Missione completata Ottimo E niente Io direi di andare avanti Perché Proprio è stata Neanche un minuto Di missione Quindi andiamo Continuiamo Un'altra cassa Rane Andiamo avanti Pesce Non si sa come Oh Un teletrasporto Top Sblocchiamolo Oh anche la cirna Che bel posto Wow E' una prova? Si Completa la sfida Mostri Ma questa è l'abilità elementale Di Xinchu No? E' identica Oh altri mostri Continuano ad avanzare Una Uno spadone Missione completata Vallata dei segreti Ottimo Oh è stata carina Diciamo come missione No? Un po' di mostri Un po' di Di storia Col vecchietto Grazie Per avermi visto E ci vediamo Come sempre Col prossimo video Ciao Ciao